Bel colpo, Nanno Max. Il mini-golf è troppo facile. Beh, allora prova anche tu. Ok. Ben, la mazza non si usa così. Voglio solo aumentare la difficoltà. Facile, eh? Fa niente, Ben. Riprova. Mi serve una mazza più grande. Ed ecco a voi, diamante golfista! Sei serio? Occhio! Avanti, 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 avanti! Per un soffio! È uno sport da gentiluomini. Tu prova a comportarti di conseguenza. No, le mie scuse. Pardoni moi. Se sono il migliore in questa stupida sport... Ah, sì! Diamante è un vero campione! Diamante causa terremoti. Buono a sapersi. Io non c'entro. Oh, la torre dell'acqua. Non interrompere la concentrazione. Ricorda cosa ti ha detto il dottore. Sani e salvi. Oh, no! È lui! Ogni volta che spunta fuori, arrivano i guai. Vuol dire altre tre sedute dal dottore. Cosa? Io non porto guai, io i guai li evito. Vai così! Allora, siete pronti a spargere il caos? Perfetto, via da qui. Oh, andiamo via! Ok, devo restare concentrato. Solo un ultimo colpo e questa sarà la partita perfetta. Sì! Così imparerete a non costruire città sul territorio delle marmotte. Città? Ma è solo un campo da mini-golf. A me sembra una città. Perciò la distruggeremo. Se vi piace la distruzione, allora... Eh... Facciamo un'altra volta? Non ci sarà un'altra volta! Se sfidi le marmotte, vieni punito subito! Sono già stato in punizione e vi assicuro che non è divertente. Che situazione assurda! Almeno le persone che erano nel parco sono sane e salve. Quelle marmotte hanno rovinato una bella partita. Speriamo che Ben gli dia una lezione. A proposito, guarda! Ora non fai più il duro, vero? Un secondo. Animotors, fatemi indovinare. Voi eravate delle normalissime marmotte finché il dottor Animus non vi ha catturati, vero? Dove si nasconde? Non farti un'idea sbagliata, ragazzo. Corriamo soltanto per noi stessi. Avanti! Riduciamo in macerie questa orrenda metropoli! Sì! E ti riattivi adesso? Ben! Ti ho preso! Visto che assurdità degli scogliattoli su due ruote, sarà facile ora che l'orologio si è ricaricato. Fai attenzione, sono piccoli come le termiti, ma le cose piccole fanno la... Differenza, l'ho già sentita, nonno. È che prima non ti stavo ascoltando bene. Voi aiutate le persone che sono qui e io farò la dirattizzazione. Ehi, roditori! Ancora tu! Sei un tipetto coraggioso, scamorza. Ora vedremo chi è la scamorza. È arrivato il momento di vite elast... O di plus oltre! Andrà bene lo stesso! Andiamo! Andrà bene lo stesso! Andrà bene l lнимare! Andrà bene! Andrà bene! Andrà bene! Grazie a tutti.